buongiorno gente sono le nove e mezza e dopo si esce vi ho risparmiato un po la parte mattutina perché magico non è neanche tanto fresco rispetto a come qualcuno ha descritto mi sono detto che sono buone quanto quelle dell'ikea quindi ho deciso di provarle giustamente sono buonissimi bello bello approvato approvatissimo bellissimo ci piace veramente bello bello è veramente bello bello sopra le aspettative super sopra le aspettative ok siamo entrati nel parco che bello che bello oddio veramente belli sti colori ci piacciono ma è bello direi fel siamo sotto la porta aperta la porca veramente veramente bello 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 mancano solo i portici io voglio i portici non vuoi i portici anche lei vuole i portici tutti vogliono i portici andiamo a prendere un caffettino 12 10 siamo usciti e ora ci dirigiamo non so dove sinceramente di qua sotto abbiamo la teca vuota perché ci hanno bruciato camilla e i libri ah no camilla ancora qua eh già super caruccio si si opera oltre che non ho mai visto l'apertura della metro così grande cioè di solito è più piccola questa zona chicchino berlino sottovalutata da me molto 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 sottovalutata bene 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 mi piace fanno i lavori fanno i lavori veniamo domani però vi voglio far vedere questi scorci belgini 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 sono le 12 e 30 ora si va la sotto al museo ogni posto ha un design completamente diverso cioè è una roba strana però me ne parlo magari a fine video si entra va bene bella è entrata da qua ci gusta mucho è finita prendendo una macchina ok dice che c'è il caffè qui dentro super ansiogeno questa è un'alto lusso rispetto a quella di prima è una macchina di sinistri è finissimo sto posto è un'alto lusso rispetto a una macchina di sinistri gente siamo usciti ora meno di un'oretta però veramente veramente chiuso passateci cioè la zona super super carina chi dice carina però cioè tutto molto così ci sta anche un po' più interattivo un po' più c'è tutta la casa dell'epoca ci sta passate passate io c'ho la voglia tipo di scacatire eh ovviamente eh ma sì una roba strasile guarda che siamo a berlino l'obesity center di caserta è lontano cioè io adoro adoro bello veramente fighissimo tutto 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 anche questo fa un bello Vienna a livello del museo molto più bella secondo me perfetto ecco oggi siamo dentro siamo dentro ok si scherzava abbiamo avuto qualche piccolo problemino sui biglietti quindi veniamo non lo so quando ciao la bambina ha paura dei corvi quindi non possiamo fare le riprese qua mi dispiace tutto si sembra più grande no ma che bella sì ragazzi piccolo ma caratteristico piccolo ma caratteristica abbiamo trovato un posticino un posticino che almeno deve mangiare sì questa qui la mangio anch'io la salzio eh io mi sa che faccio ok sono usciti ora sono le 15 mi sto riprendendo l'iphone 6 e adesso stai inizio riprendendo un iphone più piccolo perché mi sembra buona che mi scivoli e nulla inaspettato ma pranzo veramente 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 buono è cammi buono no? se la butto ah guarda che bello vedi? questo è il monascipio è la casa del consiglio ho detto anche monascipio perché ci stanno in mona va 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 deve essere messo l'ingresso adesso ingresso adesso lo chiedono saliamo mi sa troviamo i biglietti guarda eravamo a pochi metri dall'entrare e ci fanno 30 minuti e potete entrare qualche metro qualche metro vaffaculo faremo i biglietti e magari berremo perché sali lì sopra cioè guarda quanto è figo però sinceramente mi cioè no sinceramente bello ovviamente l'isola era poco 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 da lì è poco veramente poco però bella questa zona c'è gusto c'è gusto a mocio questo treno abbiamo voluto un gadget garrette uh starbucks volete prendere il mediamat siamo da starbucks ci vendiamo una cioccolata calda abbiamo preso cioccolata calda di starbucks con la panna guarda cioccolata calda finita ci sono scarpe ci sono scarpe perché andai scarpe ma lei è quella culturata nel muro però siamo in questa zona che è veramente poco dal centro non sembra proprio centro cioè non si capisce dove siamo di starbucks i nostri eroi arriveranno mai a destinazione lo scopriremo presto che anche cioccolata calda cioccolata 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 questo palazzo comunque veramente bello ok con ferro è molto 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 bello molto bello è assurdo pazzesco folle non dico altro ok è arrivato il momento di andare in hotel mercedes benzarena è un continuo di cose assurdo c'è un continuo pan pan tenso mi fermo un attimo e vedi continuamente cose bellissimo bellino 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 ho appena finito da montare l'altro video che è uscito oggi è passata non so quanto tempo dall'ultima volta che ci sono visti sono arrivati in albergo stiamo bene nulla sono le 18.30 ha fatto e angela è a letto sono quasi le 9 appena quasi finito di esportare il video che è già uscito oggi se non avete visto andrò a vedere e ora si riesce perché abbiamo cenato sì però usciamo birra stasera è molto molto più freddo c'è questo vinticello andiamo nello stesso posto di ieri sera era buono perché devo cambiare scusa logica mia fatticissimo copertino non c'è la posto dentro ferrarino bellino 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 abbiamo preso anche l'acqua e ora si sale su si sale su in the sim gente anche per questa sera direi che è tutto mi sto guardando un po' recap dell'evento disney roba marvel tanta roba se volete un video dedicato magari sull'altro canale ditemelo però per oggi è tutto ci vediamo domani torna un video solo però ora è domani eh no 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 Grazie a tutti.